Seduta del 6 febbraio In apertura è stato commemorato Adriano Bianchi, consigliere regionale delle prime due legislature, scomparso a 90 anni. L'Assemblea ha poi proseguito l'esame del disegno di legge e di riforma urbanistica. Prima di iniziare i lavori componenti dell'ufficio di presidenza, consiglieri e assessori hanno ricevuto una delegazione di lavoratori e rappresentanti sindacali della Magneto Wills di Rivoli, preoccupati per il futuro lavorativo dell'azienda. Giorno del ricordo L'11 febbraio, rappresentanti del Consiglio regionale sono presenti nel Duomo di Torino alla messa nella ricorrenza del giorno del ricordo e poi al cimitero monumentale per la cerimonia di commemorazione al monumento degli esuli istriani, fiumani e dalmati. In serata al Cinema Massimo 3, Via Verdi 18 Torino, il Comitato Resistenza e Costituzione propone la proiezione del film Sensualità sulle vicende di una giovane profuga istriana. Il Bucintoro dei Savoia Alla Biblioteca della Regione, lo storico della Marina Sabauda Luigi Griva ha svolto l'intervento Il Bucintoro dei Savoia, la peota reale di Carlo Emanuele III. La conferenza sulla sontuosa imbarcazione da parata per la navigazione fluviale è inserita nel ciclo legato alla mostra Il Savoia e i loro simboli, visibile fino al 28 febbraio, che propone rassegna, spade, onorificenze, diplomi, decorazioni civili e militari, bandiere e distintivi cavallereschi con impressi i simboli dei Savoia. Infoatti del Consiglio regionale Oltre 50 iscritti in un solo mese, 450 in totale da quando è stato avviato. Ampio l'interesse anche da parte di enti pubblici e organi di informazione per il servizio Infoatti del Consiglio regionale. Un modo veloce per essere informati via mail su provvedimenti legislativi e deliberazioni, interrogazioni e interpellanze presentate, discusse, approvate in aula e in commissione. Per accedere, dal sito www.cr.piemonte.it, tendina Leggi e banche dati, si clicca su Infoatti del Consiglio e si effettua la registrazione. Museo Ferroviario Piemontese È visibile fino al 27 febbraio nella Sala Incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, la mostra Un Futuro per il Museo Ferroviario Piemontese, tecnica e passione al servizio della cultura ferroviaria. L'allestimento propone pannelli fotografici e modellini di treni d'epoca, stampe raffiguranti stazioni del passato e immagini storiche di manifesti dedicati alla strada ferrata. La rassegna è curata dal Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano.